E' un giorno, vedrai, troverai un uomo che ti sceglierà. Un uomo che vorrà solo te al suo fianco e che ti amerà con tutto se stesso. Io quando mi sono fidanzato con Gemma non lo sapevo nemmeno che cosa fosse l'amore. E poi lo sapevo, Stefania. Quindi tu sei convinta che tra Marco e Stefania ci sia una grande storia d'amore? Ora lo so. Non è perché i soldi e i miei diventano sempre brutti. Ma io sono disposto ad aspettarti anche tutta la vita, se serve. Ti aspetterò tutte le sere in via, di fronte alla chiesa di Don Saverio alle sette. E non importa quanto ci vorrà, a te non ci rinuncio. Come on, come out, come here, come here. 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 Come on, come here, come here. E non fionare quello che tu hai scritto. E ti aspetterò, Stefano. Tutte le sere, nello stesso posto, la stessa ora. Difidi di me. Se Marco fosse l'amore della mia vita, il bacio non è stato importante solo per me, è stato importante anche per lui. Te l'ha detto lui. Forse una verificita c'è. Ti ha detto chiaramente che ti amo. Quale? Scegli. Io sono innamorato di te. Ho rotto il fidanzamento con Gemma. Sì, sì, che puoi tornare indietro, perché Gemma sta lì, che ti aspetta. Stefania, io amo te. Marco, ho fatto una scelta precisa. Basta con tutto. Con le storie d'amore, con i rotofalti, con i romanzi rosa, con le chiave, con le favole. Mi sono scopata. Basta, basta con la posta di cuore. Basta pure con Brunella Casperini. E così è vero che vuole fare la giornalistica. Ho conosciuto Brunella Casperini. Brunella Casperini, certo. L'ha immaginata. L'avverto te l'ha nominata. No. Brunella no. Brunella, che non c'eri. E tu perché sei venuta? Hai fatto uscire le porte migliori di me. E lei sarebbe una bellissima coppia da film. Sì. Il cinico di buona famiglia e la giovane realista. Abbastanza scambiato. Il contrario, invece. E sermi confrontato con lei è la cosa più interessante che mi sia capitata in questa settimana.